Gli untori scatenano l'offensiva contro il web. Sulla base di segnalazioni provenienti da Avats, Facebook ha chiuso 23 pagine italiane con oltre 2,46 milioni di followers. La metà erano filogovernative. Motivazioni? La condivisione di informazioni false e contenuti divisivi su migranti e vaccinazioni obbligatorie, nonché di contenuti antisemiti. Così si giustifica il nuovo Ministero della Verità. In realtà nessuno sa perché siano state chiuse proprio quelle 23 pagine e non altre, magari sostenute da PD e da Forza Italia. Avats spiega che Facebook non rende mai noto il motivo di una rimozione. Ma senza regole note a tutti, chiunque può ritrovarsi oscurato da un giorno all'altro. La conclusione che ne trae il New York Times è sempre la stessa, tutta colpa della Russia di Mr. Putin, che da tempo ormai starebbe cercando di dividere l'Unione Europea. Infatti l'Italia non è la sola nel mirino. A pochi giorni dalle elezioni politiche dello scorso aprile in Spagna, Facebook ha chiuso tre network di estrema destra per un totale di 17 pagine e quasi un milione e mezzo di followers. Anche allora le segnalazioni erano partite da Avats, il cui CEO, il canadese Enrique Patel, vanta collaborazioni con la Rockefeller Foundation, la Gates Foundation e l'International Crisis Group, cofondato da Soros. Ci servono 60.000 euro da qui alla fine di agosto, perché dobbiamo liberarci dalle menzogne dei media ufficiali e vogliamo evitare di cadere nella barbarie insieme ai barbari e ai bugiati. Se questa cosa funzionerà, vorrei dire che alla fine di un altro giro intorno al sole saremo molti di più, saremo più forti. Aiutateci a continuare. Chi cerca, trova. Gli Stati Uniti non cercano la guerra con l'Iran, ma nel caso di un attacco da parte sua o dei suoi alleati, la risposta sarà rapida e decisiva. Aveva detto mercoledì scorso il segretario di Stato USA, Mike Pompeo. Quattro giorni dopo, nella zona economica esclusiva degli Emirati Arabi Uniti, quattro navi, due tanker sauditi, uno norvegese e un cargo emiratino, vengono colpiti da misteriosi atti di sabotaggio. Abu Dhabi ha chiesto l'assistenza degli Stati Uniti nelle indagini. Il risultato è scontato. L'esplosivo usato contro le navi sarebbe iraniano. Come scrive il New York Times, il capo del Pentagono Patrick Shanahan avrebbe già presentato a Donald Trump un piano militare aggiornato che prevede l'invio di un massimo di 120.000 soldati americani in Medio Oriente nel caso in cui l'Iran dovesse attaccare le forze americane o accelerare sulle armi nucleari. Dunque tutto procede secondo i piani. A Bruxelles lunedì Mike Pompeo avrebbe condiviso con gli alleati europei e con la Nato le informazioni in suo possesso sulle presunte minacce provenienti dall'Iran. Ma Parigi, Londra e Berlino invitano alla calma. Mentre oggi, 14 maggio, il funzionario americano è a soci per il bilaterale con il capo della diplomazia russa, Sergei Lavrov. Dopodiché il presidente russo Vladimir Putin riceverà entrambi. Tra i temi all'ordine del giorno, oltre alle crisi regionali in Iran, Siria e Venezuela, anche i rapporti USA-Russia, la stabilità strategica, il disarmo e la denuclearizzazione della penisola coreana. Lunedì 13 maggio la Cina ha annunciato dazi ritorsivi tra il 5 e il 25% su più di 5.000 beni importati dagli USA, per un valore complessivo di 60 miliardi di dollari. Le misure entreranno in vigore il prossimo primo giugno, ma a Wall Street e nelle borse europee già si scatena il panico. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, prevede di incontrare il leader cinese Xi Jinping a fine giugno, in occasione del vertice del G20 in Giappone. Nel frattempo, però, minaccia dazi sul resto dei prodotti cinesi importati negli USA. Raccontare favole non aiuterà gli Stati Uniti a vincere la guerra commerciale, scrive il Global Times. A differenza di Washington, Pechino non nasconde le difficoltà e le perdite che inevitabilmente ne conseguiranno, chiosa il quotidiano cinese. Intanto, l'Unione Europea sa di essere la prossima. Come riporta il Commissario Europeo per il Commercio, Cecilia Malmström, Bruxelles sta mettendo a punto un elenco di prodotti statunitensi da utilizzare nel caso in cui Trump stabilisse nuovi dazi sui veicoli europei entro il 18 maggio. È iniziata lunedì 13 maggio e terminerà il prossimo 31 maggio l'esercitazione Interforze Joint Stars 2019, organizzata e gestita direttamente dallo Stato Maggiore della Difesa Italiana. Quest'anno importanti elementi di novità derivano dalla partecipazione dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e dell'Agenzia ENAV, Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo. Aree interessate Roma, Pratica di Mare, Taranto, Brindisi, Grossetto, Sigonella, Trapani, Pisa, Decimo Mannu e i poligoni della Sardegna. Tutti gli assetti delle forze armate, dei nuovi attori e alcune componenti del Corpo dei Marines degli Stati Uniti schiereranno oltre 2000 uomini, più di 25 tra velivoli e delicotteri e decine di mezzi terrestri, navali e anfibi che saranno impegnati in intense attività destrative in ambienti caratterizzati dalla minaccia cyber e chimico-biologico-radioattivo nucleare. Il 2 giugno a Cagliari, a manovre terminate, entreranno in gioco altre forze, quelle dei sardi che chiedono la fine dell'occupazione militare dell'isola, che come scrive il movimento organizzatore a Foras, è completamente asservita al gioco del Ministero della Difesa e della Nato, è completamente compromessa nei servizi basilari e nella mobilità dei suoi figli.